Il 4 marzo ha compiuto 90 anni Raffaele, detto Ferruccio Maruffi, scampato alla tragedia dei campi di sterminio nazisti che ha dedicato la sua vita alla testimonianza e all'impegno per la difesa di valori universali. Presidente dell'ANED, ex deportato e partigiano, figlio di un caduto per la libertà, Maruffi ci ha rilasciato una toccante intervista. Penso che i giovani hanno entusiasmo e in un certo senso ricordare loro, presentandogli per esempio con la visita dei Lager, eccetera, abbia questa valenza. Noi non ti raccontiamo soltanto quel che è stato, ma ti facciamo anche vedere, anche toccare con mano. Basta che tu tocca questa terra martoriata, dove gli uomini e le donne venivano uccisi, perché tu ti rendi conto che questo è esistito, ma soltanto questo che è esistito? No, da questo devi trarre la frase che questo può sempre esistere, se non stiamo attenti.